Musica Vengo da un'esperienza pluriannale in ambito odontoiatrico, ho frequentato e frequento tuttora vari corsi di aggiornamento in varie branche dell'odontoiatria per comunque tenermi sempre aggiornato e soddisfare tutte le esigenze dei pazienti. Musica Collaboro anche con altri studi odontoiatrici, offrendo la mia professionalità e la mia consulenza. Musica Pratico un po' tutte le branche dell'odontoiatria, però mi occupo principalmente di odontoiatria conservativa ed endodontica. La mia idea di medicina è soddisfare al 100% tutte le esigenze del paziente. Musica Il mio studio è dotato di tutta la più moderna tecnologia, abbiamo anche il laser a DOD per un'odontoiatria meno invasiva e più sicura. I pazienti sono seguiti a 360 gradi e con molti di loro il rapporto è anche umano oltre che professionale. Musica 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 Musica